Buonasera e bentornati con Marba21 per lo spacchettamento finalmente degli 11 IF della Top 100 abbiamo aspettato a lungo ma la settimana sinceramente non è che ne valesse più di tanto la pena però ci siamo rotti le palle, questo possiamo dire Esatto, siamo rotti, siamo stufati di aspettare, tanto una settimana ormai vale l'altra E quindi magari facciamo vedere la squadra della settimana prima Sì Cosa speriamo e cosa ci aspettiamo entrambi E noi ci aspettiamo invece un paillette Vabbè 81 Basta non trovare 11 84 Un da Grascosta me lo sento, poi a Bameyang sarebbe troppo però perché no Noi ci proviamo E ci si prova Vai Via Incrociamo le dita Eccolo Faccia Pagliere Ecco Te l'ho attirata L'hai chiamato L'ho chiamato Speriamo ci sia anche da Grascosta Il cazzo dei ultimi Pagliere Vabbè potrebbe eh Sì Alla fine era il secondo più alto Beh speriamo Da Grascosta Eh buono 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 Oh pure Sommer E io non siete serviti a noi per le sfide Sì Eh buono quindi Non costano niente Però vabbè sono soldi risparmiati Sanno 15.000 Sì Andiamo a vedere Pagliere Vabbè Sessanta Settanta si rende La Grascosta Ma aspettavo di più Da Grascosta però Eh forse perché c'è L'ho a sto Lo fa abbassare E il resto Anche lì guarda Forse la figlia La figlia com'è? Ma per carità Una merda Vabbè dai Andiamo tutti È la lista Andiamo ora a fare Roberto Carlos Non ci accontentiamo Di questi pacchetti Comunque Qualcosa hai guadagnato No? Sì Più o meno 200.000 Facciamo Da occhio Sì dai Forse pure 300 200 Sì 300 Sì Dai Vabbè Alla fine Quello era Sì 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 Se non troviamo Quello E lo era Allora Questo Oko ci abbiamo dato La settimana scorsa Di la Top 100 Bellissime icona Di la Top 100 Se ne vanno a casa In cambio Di un pacchetto Di giocatori rari Ah e via Fori uno E via Molè Questa è una delle sfide Che ha pagato di più No? Vediamo un po' Eh sì Eh sì Proto Manso 10 1 2 3 9 Dai via Calleon Vabbè Che se ne frega Sì Sì È tornare E ancora Non vi niente 2 3 3 Vabbè Lo facciamo Un'entanto Ok Vediamo un po' Comunica rosa Il giocatore di oro È andata Fai queste Questa 7000 Vittorio Madonna Così tanto Costa Pitono Eh magari Qualche rossi Fottini Non so Ma questo è già Anche sa volo No Finalmente Qualche rosso Gli evo all'ivia Ci vado a rinforzare Vittoriamente I nudi È fuori due Eoli Ma questo Non serviva La propria rinforzare Questa Mila giocatore Ah però Questi C'è una qualcuna 3000 Addirittura Un appagio Un appagio Ho Comunica Un appagio Questa Un appagio Un appagio Un appagio Un appagio Dei pai che magari a te non ti serve a niente, però non è male No, non è male, però c'ho altri, vieni a fare entrare Musel, è il 2005 Musel, pure gli dai? Musel, pure gli dai? Musel, pure gli dai? Musel, pure gli dai diversi? Musel, purtroppo, queste two ore e questa zero, stai a zero? Si, queste a zero? Ha le prime tre più costose Grazie. 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 Sì. Andiamo. Vediamo qua. No, questo Robriam Max. No, no. Ovviamente Mini. Bello. Proprio lui. Ma chi è? Baptista. Schio. Questi lo userò per fare gli aggiornamenti. No, ma da un paio di forme di video. Ombra, quattro cavalli. Sì, però non lo tengo. Ce lo do Roberto Cano, stop. No, di giusto. Ghetto. Maxi. Walk out line Camoria. Infatti. Dicci. Classi. 82. 82, però forse vale. Non so da sottovalutare. Eh, dice valgono quanto di 86, troppo. 1.800. Perfetto. Perfetto. Tu ti vendi qualcosa? No, no. Tengo sempre le confronti. Poi... C'è quello. Un po' il caos dai ogni tanto. Andiamo. Questo? E chi è? Romeo? 79. E chi è? Sempre peggio. Una forma fisica. Se hai detto di darmi. Una guarigione. Aspetta, lo scarichiamo. Ancora un altro onorario. Ok, non male che il tacco stava niente e stava sfida perchè non è la mia piagna. No. Ancora dentro walk out. C'è un effetto. Dicci. Chi è? Castro. Ah. 82. Altri 2000. Per chi sta guardando questo video se vi viene voglia di dare via a tutti i giocatori per capire i pacchetti e non lo fate. Non dirò nulla. Pacchetto mega dai qui a queste taglierine falle. Niente. Che schifo. Che è Aurier. Sì. Sì. E tanto ruolo. Sì. No. Ma che schifo. Ma che schifo. Poi mi vuole un fisico. Sì. No, manco. Questa è la migliore che te ne rimaste. Vediamo se riusciamo a arrivare a andare via. Questa è la migliore che te ne rimaste. Certo. Vediamo se riusciamo a rinascurare fino a più. Questa è la migliore che te ne rimasta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Su 24 valgono pure 35.000 questi e non 40. Grazie a tutti. Dovevi fare con tutti quei giocatori? Speriamo domani. Speriamo domani. Due tosti. Vabbè tanto il tempo che vendi tutto. Domani ci aggiorniamo quanti crediti ci hai. Non so quante... Penso a un milione e due forse in rete. Vabbè pure di più dai. Ah beh sì anche gli if e lo so. C'è un sacco di if eh. Un e tre. Un e tre, un e tre. Un milione e cinque, un milione e sei. Un milione e cinque. Un milione e cinque. Un milione e cinque. Che roba, dai. Comunque, cioè, ti manca solo Ronaldo, dai. Questo possiamo dire. Sì. Walker's Toast, dai. Ma, ah beh, Walker's Toast. Ma importa, pensi di trovare qualcosa di meglio? Perché non so. De Gea. De Gea para. De Gea para, per quello dicevo. Ce ne sta qualcuno meglio secondo te? In assoluto? No. No. Forse è il Totti, però no. Non c'è il problema. Meglio De Gea di qualsiasi. Non c'ho neanche il 91, perché da questo mi pare. Sì, no, no. Mi cambia un cazzo, forse. Qui ne è meglio il 90. Sì, no, io sinceramente non sapevo chi metterci. C'ho ancora Parman. Però boh. Beh, magari potrei mettere lui. Pup, sì. Mi hanno detto proprio che è fortissimo. Che schifo. Questo pure è non scambiabile, eh? Sì, questo però l'ho trovato nell'aggiornamento prima. Ci lo potevi mettere in qualche sfida? Ti piaceva? No, 87. Eh? Piuttosto ci metterò i Rossi. Anche i Totti possono servire in futuro. Sì, sicuramente sì. Vabbè, dai Marco, allora ci aggiorniamo domani. Vediamo un po' i tuoi crediti. Speriamo meglio. Come salire. Sì, sì, assorbendo tutto. E il che Totti troveremo un po' domani. Dai, va. È una guerra. Che se no. Tutti ci speriamo. La guerra è sala, dai. Tutti è buono. Ah sì, che sarà. Visto che è vendita, è pure sala. Certo, certo. Un pastore da poco, per poco. Buona notte Marco. Grazie per aver aperto i pacchetti con me. Di niente. Ci vediamo domani. Ok, a domani. Ciao caro. Ciao ciao. Ciao a tutti. Ciao.